E bello a tutti ragazzi, siamo io, raga, oggi torniamo con un nuovo video tutorial Comunque, raga, vi inizio già a dire che se parlo veloce è perché se non sbaglio è la ventesima volta che provo a fare lo stesso video Perché tutti i familiari entrano in camera e disturbano, quindi scusate Comunque, raga, come avete letto dal titolo, a parte questa cosa che vi ho detto adesso Oggi vi mostro come creare un account Discord senza le credenziali sul telefono Però andiamo alla sigla e poi vi mostro come si fa, a dopo Ok, raga, eccoci Ehm, innanzitutto o nell'app che vi lascio in descrizione il mio Discord comunque, come al solito O in un browser qualsiasi Vi lascio Vi lascio il Ehm, come si chiama Ehm Vabbè Ehm Vabbè Comunque, raga, potete sia In un browser qualsiasi o nell'app Ehm Comunque, per chi non sa come funziona Discord Lascio in descrizione Il Il link Il link di Discord Comunque, raga Questa cosa è per chi non vuole Per chi non vuole Usare un account proprio per registrarsi Quindi Vabbè Vabbè Mia nonna, scusate Comunque Per chi non vuole usare il proprio account Potete fare questo metodo Comunque, se facciamo registrati E qua Mettiamo In parole Lettere a caso Vabbè Tutte Tutte le mail che ho provato A A scrivere Iniziano sempre col link Strano Poi Chiocciola Altre parole a caso Punto com Qua Qua Mettiamo un nome a caso Io metto Martez Il mio youtuber preferito Poi C'è Una password a caso Comunque Raga Arriva subito Raga Mia nonna Mi ha letto nel pensiero Che Che Stavo per andare A chiudere la porta E mi ha letto nel pensiero E è andata Lei Comunque Riescriviamo Un attimo Vabbè Non so Perché non viene l'occhietto Perché Ok Comunque Me la salvo Che Che poi Poi Ci servirà Per cancellare L'account Non so perché Non c'è più La musica Ah Non avevo messo Ripeti Scusate Comunque E qua Scegliete voi Io metto sempre Le mie credenziali giuste Scusate La data di nascita Giusta Comunque Se ciò continua E raga Se ciò ma sono un essere umano E raga Bensì Siamo dentro Il nostro Account Appena creato Ovviamente Possiamo Unirci Creare Un Un server A caso Però Noi Andiamo A testare L'unimento Vabbè Non so come Vabbè L'unione Praticamente Non so perché Mi sta un po' Laggando Il pc Non so perché Comunque Incolla Unisciti Aspettiamo Che collaga Di certo Ed ecco Raga Eccoci Non so Il motivo Non so Il motivo Perché Mi dice Che posso Scrivere Perché Io Avevo messo Di nuovo Vabbè Ah Mi sa che Lo devo Ricreare Vabbè Comunque Possiamo Fare Quello Che vogliamo Poi Per chi Non sa Come Eliminare Comunque Potete Creare Anche qua Una foto Potete Potete Anche Non Non Verificare La mail Potete Fare Quello Che Volete Potete Aggiungere Un numero Di telefono Se volete Per sempre Questo Account Potete Aggiungere Un avatar Scegliete Scegliete Voi Per esempio A caso Questa Della Vittoria Reale Fatta Fatta L'altro Ieri Per voi Per me Per me Ieri Stesso Comunque Cancelliamo Comunque Visto Ed ecco La nostra Vittoria Reale Immagini Praticamente Non so perché Ancora Qua non si vede Boh Non so Scriviamo Per Provare E spulsare E potete Scrivere A chi Volete Anche Per esempio Possiamo Mandare La richiesta A me Per esempio Ci sono già Incolla Ah già Non posso Me la mando io Ok Ed ecco Qua Ed ecco Che ce l'abbiamo Possiamo Scriverci Come un vero account Raga Scriviamo Bella Cratt Bella Anche A te E così via Per poi Cancellare L'account Ovviamente Per chi non lo sa Impostazioni utente Sempre Sempre il mio account Elimina account Vediamo qua Che abbiamo salvato La password Copia E qua Incogliamo Elimina account Ed ecco fatto Poi Poi Dopo Qualche Minuto Scusate Scusate Che Tiamo La mia nonna Comunque Dopo qualche Minuto Non so Quanto Non so Per quanto Manche 48 ore Non so E dovrebbe Cancellare E E C'è Poi una Faccia Appena creato Praticamente Come se fossi Appena creato E Vabbò raga Per oggi è tutto Usciamo Anche Da qua E Vabbò raga Per oggi è tutto Ditemi Che ne pensate Sia Dell'animazione E del video E Raga Scusate Ancora Per tutto Il trambusto Di mia nonna E Vabbò Seguitemi Su Discord Poi Quando Sarà Ufficiale Vi manderò Anche Il mio Instagram E Anche TikTok E Raga Iscriveggiatevi Anche Al canale E Raga Dammi le sendini Ci vediamo Nel prossimo video Mi le sendini Bene Ah Scusate Adios Ciao Scusate Scusate Grazie a tutti.